Musica Inaugurato a Villa Serena, San Romualdo, nel Ravennate, un nucleo che ospita anziani affetti da sindrome di Alzheimer ed è operativo dal 2008 e nel corso dell'ultimo anno è stato ristrutturato, ampliato e completato con un giardino Alzheimer, un viaggio sensoriale e terapeutico all'aperto che migliora i disturbi comportamentali e cognitivi grazie ad un percorso ad anello dotato di sistema di illuminazione anche notturno. Una bellissima giornata e siamo in uno splendido giardino che fa percepire una bella sensazione, fa percepire la sensazione di stare bene, in realtà è stato creato invece per venire incontro a quelle che sono le patologie. Sì, questo giardino è stato studiato proprio per le patologie Alzheimer, la nostra struttura aveva un centro Alzheimer nato nel 2008 ma era piccolino, senza spazi all'esterno e adesso abbiamo pensato di costruire una sala polivalente con un giardino Alzheimer e per fare tutto questo abbiamo girato tutto il nord Italia, visto altri centri e poi con l'aiuto di esperti, di architetti abbiamo ideato questo giardino che serve sia al gondering, cioè al cammino in continuo dei pazienti e sia a degli stimoli sensoriali dati da cartelli che si vedono e poi la cosa migliore sono i fiori, se guardate bene ci sono vari aiuole che fa vedere vari tipi di fiori, di colori, quindi questo rilassa il paziente, è un modo come un altro per aiutare a gestire questo tipo di malattia. Ci raccontava quindi un giardino bello da vedere ma che offre anche delle stimolazioni, quindi la malattia può essere anche combattuta, si può vivere con la malattia utilizzando questi strumenti appunto come la bellezza del verde con la scelta di piante particolari, di strumenti. Sì, le piante sono particolari, sono di vari colori che rilassa il paziente e che interagisce, ci sono vari profumi diversi e in più ha il modo di girare nel giardino, ci sono delle sedute, oltretutto ci sono delle sedute dove in queste sedute possono fare della ginnastica, ci sono dei pedali e poi ci sono dei cartelli musicali dove toccandoli riproduce dei suoni. La particolarità più importante di questo giardino è il treno, il treno è un'evoluzione che non ha quasi nessuno, è un vero vagone che il paziente entra, si siede e in un monitor fa un viaggio e attraverso il monitor di fianco a questo vagone si fa il viaggio, la stazione e i vari percorsi, quindi è una cosa che noi pensiamo che serva molto al paziente. Quindi una maniera ulteriore per andare incontro a quelle che sono le esigenze dei tanti pazienti e delle loro famiglie. Sì, noi abbiamo oltre a questo giardino, abbiamo un altro piccolo giardino dove le famiglie che vengono a trovare i loro pazienti non stanno in questo giardino perché altrimenti sarebbe troppa persone. È un giardino a parte dove loro possono stare con il loro paziente e passare qualche ora con loro. Un bel impegno che sicuramente appunto viene incontro a queste esigenze e per questo è necessario anche un personale formato, un personale efficiente. Sì, noi abbiamo lavorato molto sul personale e dovremo lavorare molto, siamo solo all'inizio, questo è aperto da poche settimane, quindi siamo agli inizi. Adesso viene il difficile, cioè stiamo già addestrando il personale, ma sarà un addestramento continuo, anche noi dobbiamo imparare a gestirlo, a gestire i nostri ospiti e è importante che il personale sente questo lavoro. Abbiamo già fatto dei corsi di formazione e ce li abbiamo in programma altri corsi in modo tale venga avanti questo percorso. Possiamo dire dalla Toscana alla Ravennate per coordinare questo bel progetto. Abbiamo visto i risultati, sicuramente un lavoro presumo impegnativo, ma veramente soddisfacente. Sì, siamo molto contenti di aver realizzato questa struttura perché la proprietà ci ha subito dato la possibilità di lavorare in tandem insieme con un gruppo di lavoro che da anni stava dando dei buoni risultati già alla struttura. Il nostro compito è stato quello di coordinare tutto un progetto e realizzarlo sia per gli interni che per gli esterni. Io ho sempre condiviso con tutti gli operatori e con tutto il personale sanitario il percorso che abbiamo fatto in questa struttura. Quindi tutte le scelte dai cromatismi agli arredamenti agli elementi multisensoriali sono stati condivisi con le persone. Questo perché il nostro approccio è un approccio integrato con la progettazione e con la parte che poi dopo gestirà l'anziano fragile in questo contesto. Il nostro è un gruppo di lavoro di cui fanno parte alcuni personaggi con delle specifiche capacità. Per quanto riguarda gli interni io collaboro con l'architetto Carlotta Ferri che vorrei che eventualmente lei poi dopo gli facesse dire due parole. L'architetto Carlotta Ferri è stata chiamata in causa e quindi sentiamo direttamente qual è stato il suo impegno in questo bel progetto. Dunque questo progetto riguarda un salone polifunzionale che è stato progettato ex novo e è un salone in cui sostanzialmente gli ospiti devono assolvere a tante funzioni diverse. Quindi un salone che aveva necessariamente bisogno di essere molto flessibile. Quindi c'è una micro area dedicata alla consumazione dei pasti, un'altra invece dedicata alle attività, quindi con dei pannelli a parete. E infine c'è un piccolo spazio salotto, quindi relax, conversazione. Abbiamo cercato di orientare l'ospite, quindi di rendere veramente l'ambiente al servizio dei loro bisogni, che sono bisogni di un'utenza particolare, un'utenza fragile, un'utenza con decadimento cognitivo. Quindi tutti gli elementi, sia architettonici che gli arredi, piuttosto che i contrasti cromatici, rispondono proprio a questa esigenza. Quindi abbiamo tentato di mettere in piedi un ambiente che fosse bello, esteticamente bello, in cui si vive bene, in cui l'ospite vive bene, ma non solo. In cui anche l'operatore ha modo di svolgere al meglio il suo lavoro. E ecco, una cosa che mi preme sottolineare è che la progettazione di questo spazio è nata contemporaneamente alla progettazione anche del giardino esterno. Quindi sono due unità in comunicazione, c'è proprio un continuo di percorso e sono nate nello stesso momento. Per cui da qui l'esigenza di dire che l'ambiente, una progettazione fatta in maniera accorta per questa tipologia d'utenza, è un ambiente che cura e che è a servizio delle terapie non farmacologiche. È stato chiamato in causa il giardino, il paesaggio e lei è stato protagonista di questa realizzazione. Sì, il tema del giardino terapeutico è un tema di grandissimo interesse e che ha un grande futuro. Soprattutto perché io sto lavorando molto allo studio di giardini terapeutici per determinate patologie. In questo caso è un giardino scelto in cui le piante e il tipo di progetto è proprio stato espressamente scelto per la patologia dell'Alzheimer. Che caratteristiche ha? Le caratteristiche sono quelle di unire piante sia sempreverdi sia a foglia caduca, quindi che abbia un aspetto gradevole anche nell'inverno e che hanno caratteristiche particolarmente spiccate per quanto riguarda il profumo, la colorazione delle foglie e del fiore e anche piante molto gradevoli al tatto. Quindi il malato che entra in un giardino dedicato a questa patologia, quindi per lui, viene sollecitato nei sensi praticamente e riceve un benessere immediato. Questa è una cosa che io l'ho provata, l'ho studiata con dei medici, con dei professori specializzati in questa malattia.